in questa missione dovrete prendere la carica all'interno del tunnel chiuso sotto zai e osservatori nella location che vedete nel video una volta presa la cassa avrete veramente poco tempo per arrivare all'ambasciata statunitense io questa cosa non la sapevo e sono arrivato a pelo a pelo quindi vi consiglio di prendere un elicottero comunque un mezzo di trasporto molto veloce perché avrete un tempo limitato ma approssimativamente 5 minuti per arrivare all'ambasciata statunitense e piazzare la bomba una volta lì dovrete aspettare nel perimetro che esplode la missione sarà compiuta